Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2.4 ruote e passione motori. Parliamo di due ruote, parliamo di pit bike e lo facciamo insieme ad Alessio Vigna. Ciao Alessio e benvenuto. Ciao, grazie. La passione delle pit bike e in genere dei motori deriva dal fatto che in famiglia un po' tutti mastichiamo motori. Grazie a tutti.